Grazie al gemellaggio con la consulta di Bolzano nata 11 anni fa, anche a Cremona prende forma l'organo consultivo che potrà consentire ai cittadini stranieri residenti con regolare permesso di soggiorno di avere una forma di rappresentanza al fianco dell'amministrazione comunale, un organo elettivo che va a colmare il vuoto legislativo che oggi nega il potere di voto dei residenti che provengono da paesi fuori dall'Unione Europea. Una raccolta di firme è partita per portare la discussione in consiglio e le associazioni del territorio stanno lavorando per la scelta dei candidati e soprattutto sulla formazione necessaria ai candidati perché la consulta possa partire e una volta partita sopravviva nel tempo. Una consulta è un organo collegiale che è su base elettiva, quindi è realmente rappresentativo però da parte di persone che hanno motivazione e competenza e che verranno sostenute anche da una buona formazione perché la consulta è una cosa seria, è uno strumento di inclusione sociale e politica, politico-amministrativa e serve per gestire meglio insieme il territorio in modo responsabile. Il salto di qualità che dà una consulta in collaborazione con le istituzioni è proprio questo, noi viviamo nel territorio, siamo residenti qui, lavoriamo, qui studiamo e quindi è il nostro territorio. Però in quanto stranieri qualche volta ci sono delle problematiche che vanno affrontate in piena collaborazione. È una palestra civica che consigliamo anche a tutti i cittadini cremonesi. La consulta diventa necessaria per rappresentare le istanze dei 10.000 immigrati ormai stabili nel tessuto sociale e produttivo cremonese e per fornire informazione, assistenza e merito a questioni legali, sanitarie e burocratiche che oggi spesso non sono disponibili. All'interno della consulta saranno attivate alcune commissioni con focus su temi specifici come i giovani e le donne. Abbiamo conosciuto due dei candidati. Io sono un uro, vengo dall'Afghanistan, da otto anni residente a Cremona, ho finito le scuole superiori, mi sono diplomato come perito in elettronica e telecomunicazione e attualmente sto facendo un corso di alta formazione a Milano. Diciamo che mi interessa candidarmi alla consulta perché in questo modo posso aiutare gli immigrati e i rifugiati di diversi nazionalità che arrivano a Cremona. Infatti noi abbiamo pensato che a Cremona dobbiamo contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini stranieri iniziando a far capire come funzionano le istituzioni e come partecipare al funzionamento delle istituzioni.